Che siamo noi? Cerchio K attraverso Marco dal tempo all'eterno a cura di VB domanda Su quale tipo di vita possiamo influire? Su quella macrocosmica che è la natura o su quella microcosmica che siamo noi? Quindi, guida spirituale, voi non potete intervenire nella vita macrocosmica perché la vita macrocosmica non ha libertà e non soggiace a quella libertà che è propria della vita microcosmica La vita macrocosmica continua indipendentemente dalla vita microcosmica, quindi voi non potete strumentalizzarla, non potete influire su di essa Nella vita microcosmica, invece, siete voi che scrivete i vostri singoli karma, vivendo tali o tali altre situazioni Perciò, proporzionalmente allo sviluppo raggiunto dalla vostra coscienza, potete influire sulla vita microcosmica Perciò, proporzionalmente allo sviluppo raggiunto dalla vostra coscienza, potete vivendo tali o 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 tali?